Ah comunque mio zio Ben, per chi non lo sapesse, lui era uno, aveva il cuore d'oro ragazzi, cioè tutti parlavano ben di lui E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su The Amazing Spider-Man 2 Allora ragazzi, vi chiedo scusa per irritare questi giorni dei video, ma credetemi, siamo entrati, dobbiamo organizzarci tantissimo Questo video dovevo uscire alle 13, uscirà, che considerate che adesso sono le 13, quindi credo uscirà verso le 1 e mezza, le 2, dipende quanto durerà questo video Quindi, noi su questo episodio ci siamo lasciati, non proprio qua, ma più o meno ci siamo lasciati qui Dovevamo andare dal signore, come fine della corsa del signore Spider-Man, ok Trova l'antenna, ok Ok, va bene, finito, va bene, allora ragazzi, devo andare Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, dai, non è difficile, dai, ok, dobbiamo appizzare ste cose, mi bruta l'occhio Ok ragazzi, dobbiamo disabilitare ste cose, e che cacchia non ci vuole Allora, vola di là, per favore, ok, yes Vola, vola lì nel cielo, yeah Dove, dove sta l'altro, dove sta l'altro, non lo so, dove sta l'altro No cazzo, sta l'altro, l'altra parabola, salve Dove cazzo sta l'altro, ah, sta qua, ah, sta là, sta là, salve signora parabola, salve Ok, disattiviamo la terza parabola Visto che ci serve per trovare, non ho capito, l'assassino dello zio Ben Che lo scorso episodio ho sbagliato, ho detto di nostro padre, ma non è nostro padre Oh, parlami, cosa, ho aperto la mappa di mano Cosa è sta roba? Sono le missioni queste qua Oh, vabbè, vabbè, andiamo all'obiettivo principale Eh, mira la rivoluzione e fornisce bonus all'abilità del suo costume Va bene, va bene, va bene, va bene, sì, 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 quella roba là, va bene Perfetto, va bene Ok, allora ragazzi, dobbiamo fare il culo a questi quattro stronzetti E a me, vabbè, oh, bello, sì, quanto mi mancava prendermi a calcio, pensi di merda Sì, bastardo, pensi di merda Oh, dioschi, oh, che dolore Oh, bello, il calcio in bocca ti piace Eh, sì, vi ricordo, ragazzi, che Spider-Man è un cuoco famosissimo Il suo piatto migliore sono i calci in bocca, appunto, ehm, i calci in bocca al limone Ah, salve il civile, ah, devo salvarlo, signor civile Aspetta, dov'è il civile? Ah, è qua, distruggi, salve Signor civile Ti dico, secondo me i gabbettoni sarebbero un'arma migliore Dov'è? Dov'è? Aspetta, ok, andiamo di qua Salve Salve Ok, ragazzi, siamo in mezzo ad una situazione abbastanza, come dire, una situazione rovente Allora, ragazzine, dobbiamo salvare sto civile Dove cazzo, ambro, là, è? Allora, teniamo il coso attivo Eh, dai, c'è un civile Do cazzo sta, il signor civile Sta bene No, è di qua, è di qua, è di qua, è di qua Aiuto Mi si sono appannati gli occhiali Ok, recupera civile Come ti sono appannati gli occhiali Ti salvo io Ok, salve, l'ho salvato Ok, si sta facendo tutto da solo Sì, salve, come si disattiva È così Ok Yes Devo proprio ringraziarti, Spider-Man È stato un piacere È stato un piacere L'abbiamo Cosa, cosa ne dici se chiamo il Daily Bugle e dico che Jameson è un bugiardo Beh, non sarò io a fermarti A presto Eh beh Allora, ragazzi Dobbiamo aprire il cellulare, cos'è? Bel lavoro con quei civili salvati dall'incendio Sto lavorando all'articolo, lo leggerai questa sera Sì, va bene, salve, sono interessato quanto una palma appunto venduta a un iracchiano Allora, salve Allora, ok, salve Oh, comic stand Raggiungi il negozio di fumetti Oh, sì, salve Sì, entriamo nel negozio di fumetti Sì, vabbè, ma non dalla porta, ovviamente Noi entriamo dal tetto Mi va benissimo Ah, ci siamo cambiati Ok, 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 ok Siamo andati nel tetto Ci siamo cambiati E siamo, va bene Ok, sì Chi di spada ferisce Spada nel culo Si trova e dice Ah, mi sono ferito Dolore atroce Ah, sto soffrendo Come, come, come Ah, quindi Allora Quindi Quest'oggi Siamo in un negozio di fumetti Il caricamento, come sempre È sempre molto veloce Talmente Ma velocissimo, ragazzi Cioè Appunto, cioè Volevo farvi notare questo The Amazing Spider-Man 2 Rispetto all'1 Ha migliorato di Ma di gran lunga i caricamenti Cioè Non si notano neanche Come potete vedere Cioè Voi lo state notando Io no Cioè Velocissimo Un turbo Diciamo che Nei doppiaggi Effettivamente Si sono migliorati Diciamo Il primo era davvero Squallido Vi ricordo ragazzi Se vi andate a guardare La serie che Troverete il link Della playlist Qui sotto in descrizione Vi renderete conto Come le cose che dice Peter Parker Sono di una stupidità Immonda Anche quale dice Ma magari Il doppiatore Doppia leggermente meglio Invece di vedere Un robot E dire Oh C'è un robot Sono terrorizzato Ah Qua dice Oh mio Dio C'è un robot Già magari Un po' più sentito Comunque ha finito Il caricamento Adesso Peter Ehi Stan Oh Bentornato Fidelissimo Oh Katuman Che culo C'è che Stano Non ti vai più vedere Non ci sono parole Mi dispiace davvero Per tuo zio Ben Ah È stato un grande uomo Era il migliore Eh sì Grazie Grazie Mi ricordo che venivamo Sempre qui insieme Dopo i disastri Che ti ho combinato qui Mi sento un po' in colpa È acqua passata ormai Beh Vuoi qualcosa? Non so Un po' di sane avventure Marvel Per rimetterti in moto Il cuore e fumettaro Nah Passavo da queste parti Ma tornerò Non dire altro Quando hai bisogno di ispirazione Mi trovi qui Certo Sempre se lo schiatti prima Ah Comunque Mio zio Ben Per chi non lo sapesse Lui era uno Aveva il cuore d'oro Ragazzi Cioè Tutti parlavano Ben Di lui Era carino Allora Raccurando le pagine Sì va bene Dai un'occhiata Il gioco Si va bene Eh sì Salve Sì posso andare No Ok ma sì Posso andare avanti Salve Oh Fai pratica ogni combattimento Usando un videogioco arcade Guarda gettoni Eh beh non c'è gettoni Io ero in activision Guarda come si spamma l'activision Ok va bene Quindi obiettivo principale Esci dal negozio Perfetto Vuoi uscire dal negozio? Sì Qui ci torneremo magari successivamente Quando avremo raccolto Varie cose Io vi chiedo scusa Ogni tanto tossisco Ma appunto Avendo la tosse Tossisco appunto Perché se avevo il catarro Catarravo Una volta che ho la tosse Tossisco Cioè Se avevo l'emorroide Era un bel dito in culo Sì Magari doloroso Era un dito in culo Quindi Oh ma I caricamenti Veloci Veloci Poi voglio parlare di un'altra cosa Sono andato ad aprire Un video casuale Di Diamante in Spider Nella mia prima serie Ed è vero Quello che ho notato La grafica Di Diamante in Spider Man Il primo Era di una qualità Quasi eccelsa I dettagli Del costume Di Spider Man Erano qualcosa Di fenomenale Fantastico Cioè proprio all'occhio Si vedeva Che era davvero fatto bene Qua nel 2 La grafica Cioè non ci sono I dettagli Che ci sono nel primo Pecca un pochettino Però vabbè Comunque la grafica Non gioco non è tutto Sta a vedere Se il gioco A livello di trama Giocabilità È Di toco Detto Con la salsiccia In quale lingua Significa Con i funghi Si beh E dico tipo No no E lei fa Si si Oh si È proprio così Ci sta Ah quindi Ah quindi Stiamo Abbiamo messo sotto controllo Le linee telefoniche Grazie a quelle antenne Ragazzi Figata Potenziamento Personaggio Disponibile Oh bellissimo Avendo potenziamento Alla presa Perché Il blocco Ancione Poi Impressione E diventando Più veloce Va bene Ok Per imprimere Se tieni premuto LTRT Va bene Ok Costa 500 Va bene Ok La compro Va bene Si Serve Si Si Ciao Allora Io c'ho sempre la tosse Mannaggia la cacca Allora Oh la fionda Quella roba là Ok Portata Cos'è portata Ora che Spiderman Ha più esperienza Wow C'ho la golite La portata Il suo sensore Non gli aumenta Ok Efficienza Va bene No va bene No 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 Compriamo portata No no Va bene Teniamoci i punti Allora Raggiungi la posizione Di Carradine Carradine Oh guardate ragazzi Se il tengo premuto Va più veloce Ora si che mi Mi piace Mannaggia la zozza Ok Oh fumetto Ah fumetto Fumetto Eh vabbè La visuale Che non è nemmeno D'aiuto Ma è nella vita Allora Nei miei presi 2 su 15 Non è vero Sono 300 Vi avviso già da adesso Sono 300 Quindi mettetevi Il cuore in pace E Tra un zolli Che Non li prenderò Tutti Comunque Mi avete scritto Nei commenti No Ti prego Prendili Off camera Li prenderò Off camera I fumetti Perché voi Tutti sapete Che a me Se un gioco piace Piace completarlo Prendendo tutte le cose Ah l'ho mancato Cazzarola Eh ragazzi Lo so Mi sono Stato di Allo Taa 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 Un fumetto E' la Madonna Allora Quindi Dove Vediamoci Barbabietola Uh Quelli di FPS Incredibile Attenzione Sulla fascia Allora Direi di andare Da Keradin Ok Eh Sì Madonna Santa Non Tappizzare Spider Lo dico io Quando tu tappizzi Allora Persino a New York A volte Non ci sono Appigli Eh Hai visto Incredibile Ok Siamo arrivati Al corridoio Ok Quello lì è Keradin Keradin Che devo fare Ok Ma è lui E' l'assassino D'indipend Li stai contando Credevo che ti fidassi Di me Simpatico Ehi Cos'era Fermo Avanti Ma ferma la macchina Ma ferma la macchina Brutto affare Andiamo Ma fermala Ma Spider Mamma porca Trovo un deficiente Sei Non ti permetterò Di uccidere ancora Ok Ok E' stata una figata Eh Muovi Che devo fare Y Chiudi il becco Te lo chiudo io X Oh Che devo fare Oh Poveri E' volato via Aspetta Che devo fare Che devo fare Non capisco Aspetta Non capisco Che devo fare Che devo fare Non capisco LB Hai rotto le palle Allora Hai rotto le palle Hai rotto le palle Ok Salve Nostalgia Ti salvo io Ti salvo io Ti salvo io Ti salvo io Vieni qua Bella donna Perfetto Salvata Ok Perfetto E quindi Lo lasci scappare Veloce Corri C'hai tanto tempo Un po' agitata Prendi quel pazzo Perfetto Quello Tranquillo Zio Ben Tranquillo Lo legherò Per Ben Ok Salve E dov'è Prendi il killer Di zio Ben Ma non l'ho preso E' morto Orto Non può essere lontano Dici Ma da quando è che sei un segugio Non eri un ragno Da quando è che sei un segugio Che sei Dogman Ragazzi Cosa è Ck Cazzo bene No Quelle cm Però Oh Della spazzatura 9-1-1 Qual è l'emergenza Devo segnalare un cadavere Come devo segnalare un cadavere Ma sei sicuro che sia morto Ma magari Ma scusi Ma sei sicuro Ma sei sicuro che sia morto Mi scusi Che devo fotografare Ok Ho fotografato i morti Cazzo lo devo fotografare Ah Ok Devo fare il ck Se mi scoprono Si mette male Più veloce Ah Ok 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 Allora Quello lì era un cadavere Certo Ripeto ci fai l'audio Dov'è? Un messaggio Lo so Lo so doc So come funziona Io vi dico che i miei genitori Mi picchiavano O mi hanno fatto cadere da piccolo O mi hanno fatto cadere da piccolo Con infanzia tremenda Oh Oh Certo Non è stata il massimo Mio padre mi picchiava Mia mamma beveva Ma capita un sacco di gente Che non finisce come me Ecco cosa è successo Ero ancora un bambino E ho visto la verità La vita non ha senso Solo la morte è importante Ah Beh Ok Va bene Ok La zia Mei lo scoprirà Prima o poi E voglio starle accanto Quando succederà Ok Perché ancora la zia Mei Non sa che bene è morto Ah che bene Il bel dito in culo Sta roba Ok ho preso Ho preso il fume Stavo cercando Eh si lo so Oh ragazzi Non ci sono appigli Non rompere le palle Non ci sono appigli Allora ragazzi Quindi Allora Quando mi capita Sentite sto Psiù psiù Che ogni tanto da Vuol dire che non ci sono appigli Ragazzi C'è quindi Tranzolli Ok Vediamo se lo fa Non lo fa Non lo fa Ecco Se dire questo psico È perché non ci sono appigli Ok 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 Quindi Non è come l'uno Che ogni tanto si appizzano Che ogni tanto si appizzano Nelle 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 Perfetto Fatto Allora Quindi Nel cielo volevo dire Perché ogni tanto Vi ricordate Su The Amazing Spider-Man 1 Si lo so ragazzi La prima pagina di fumetto Però dai Poi me li raccolgo Avrei fatto i miei Eeeh Che sta dicendo Me lo sono dimenticato Ah sul primo Si appizzava nel tè Nel cielo Spider-Man Ve lo ricordate Perciò Dico Sti cazzi Allora Qualunque è già passato Bebbero degli scagnozzi Non ci sarebbe E beh Direi Sei comunque Spider-Man Ho promesso Alla zia Me Che sarei tornato Presto Devo muovermi Beh Si chiama zia Me Capito Dipende Noi qui Siamo ad aprile Il mese prossimo Poi magari Si incazza Perché me Vi ricordo Che vuol dire Maggio Quindi aprile Maggio Magari fai tardi Quella si incazza Un bel dito in culo Allora, ok, quindi Io direi di prendere quel fumetto Così giusto perché Questa parte La visuale che si minchia Però questa cosa non mi manca La visuale che si incoglionisce da sola Lo prendi Oh, grazie mille Ok, sali là sopra It's alright Dove cazzo è? Ok, dobbiamo andare per di là Perfetto Quindi direi di metterci là E quindi Allora, ragazzi Se mi è piaciuto come sei facciato Un bel pollicione in su Qui sotto al video Noi siamo a 300 metri Dalla casa Dalla missione Dobbiamo andare dalla zia Mei E nulla ragazzi Se vi è piaciuto come sei piaciuto Un bel pollicione in su Qui sotto al video Se la serie vi sta piacendo E volete appunto che continui Spolliciate a bestia Mentre io raccolgo i fumetti Vieni da papà? Siiii Mentre io raccolgo i fumetti Siiii Dai, dite la verità Dai, allora ragazzi Ditemi qui sotto nei commenti Se vi manca Un pepo che raccoglie i fumetti Ragazzi Vi giuro Non li sto cercando E che a me piace Guardarmi intorno Che bei palati Ma che bello Bellissimo Quindi se vi è piaciuto Sponciate Commentate E seriamente ragazzi Vedete un prossimo video E ditemi come vi sta sembrando Questa sera Perché a me Comunque sta piacendo Trasciando la grafica Che mamma mia Il costume Senza dettagli La prima Prima mi piacere di più Però vabbè Magari il gioco Sarà più figo E più intenso Andando più avanti E comunque mi sta piacendo Quindi sponciate A un prossimo video E ciao ciao Come si stoppa